Terzo appuntamento con i farmaci per il trattamento di gastrite, mal di stomaco e reflusso. Questa classe di farmaci in realtà non è utilizzata in maniera specifica per trattare questi sintomi, ma partecipa a quasi tutte le terapie. Ed è la classe dei procinetici, cioè quei farmaci che velocizzano lo svuotamento dello stomaco e dell'intestino. Ciao, sono il dottor Ottavio Ungaro e sono farmacista presso la farmacia Mangiolino. Questa classe di farmaci, ti dicevo con un nome così difficile, procinetici, sono dei farmaci che agiscono a livello dello stomaco e dell'intestino per velocizzarne lo svuotamento. Sono farmaci che hanno nomi quasi impronunciabili, quindi non solo la classe dei farmaci ma anche i farmaci stessi, che poi ovviamente l'industria farmaceutica è riuscita a trasformare i nomi commerciali molto più orecchiabili. Te ne dico qualcuno, metoclopramide che corrisponde al Plasilo e al Geffer, il Domperidone che corrisponde al Peridon e al Motilium, la Levosulpiride che corrisponde all'Evobren e Levopride e infine la Clevopride che sarebbe il Motilex. Questi farmaci, qualcuno sicuramente lo conoscerai, vengono utilizzati quindi per velocizzare lo svuotamento dello stomaco e questo è dell'intestino. Questa è una cosa molto importante per chi soffre di reflusso, perché ovviamente svuotandosi più velocemente lo stomaco rimane meno tempo pieno di materiale, quindi si riduce anche la possibilità di avere un reflusso gastrico, cioè una risalita di gas e di liquido all'interno dell'esofago e anche più su. Quindi dei farmaci che partecipano al trattamento di gastrite, reflusso, mal di stomaco, con quale schema? Quindi adesso riuniamo un po' i tre farmaci che abbiamo utilizzato. Ovviamente questi sono tutti quanti i farmaci su prescrizione medica, quindi non si possono fare delle terapie, autoterapie improvvisate, però diciamo come è organizzato normalmente lo schema per un trattamento della gastrite, del reflusso o del mal di stomaco. Quindi questi farmaci procinetici, un quarto d'ora, venti minuti prima dei pasti, vanno presi a digiuno in media natale che predispongano l'apparato digerente a svuotarsi più velocemente. Tagiscono su dei recettori, cioè su degli interruttori presenti a livello dello stomaco e dell'intestino dicendo guardate, qua bisogna darsi una mossa, bisogna svuotarlo velocemente. La mattina digiuno il farmaco, il gastroprotettore, che quindi ridurrà la produzione di acido da parte dello stomaco e venti minuti dopo il pasto l'antireflusso, che quindi formerà la cosiddetta, te ne ho parlato, zattera per impedire il reflusso. Questo è lo schema. Quindi questi farmaci vengono utilizzati per velocizzare lo svuotamento di stomaco e intestino. Il problema qual è? Che la maggior parte di questi farmaci agisce non soltanto a livello di stomaco e intestino, ma anche a livello del cervello e quindi può dare dei disturbi come ad esempio possono dare sonnolenza, possono dare interferire con altre terapie neurologiche ad esempio e quindi bisogna utilizzarli con la massima cautela. L'unico di questi farmaci che non dà questi problemi è il donperidone, che non riesce ad arrivare a livello del cervello e quindi è stato largamente utilizzato anche per i bambini il periodo, quanto periodo mi sono preso io da piccolo, salvo poi scoprire qualche anno fa che il donperidone utilizzato anche in maniera continua può causare alterazioni del ritmo cardiaco e anche problemi importanti a livello cardiaco. Quindi è stata interrotta la somministrazione per i bambini e per l'adulto è stata molto limitata. Quindi come al solito abbiamo dei farmaci con il lato oscuro, quindi sempre da utilizzare con estrema cautela. Quindi farmaci che velocizzano lo svuotamento dello stomaco e dell'intestino, motivo per cui vengono utilizzati anche per trattare la nausea, il vomito, il plasil, il geffer, ma anche il peridone sono stati utilizzati e vengono ancora utilizzati per la nausea, sia da intossicazioni alimentari, disordini alimentari, ma anche ad esempio da chemioterapia. Quindi questo completa la prima parte dei farmaci per il trattamento dei disturbi dello stomaco e del primo tratto dell'intestino e quindi come al solito io sono a disposizione per eventuali domande, sia messaggi, sia personalmente in farmacia. Ti ricordo sempre che non sono terapie da improvvisare, ma sono sempre terapie da concordare con il tuo medico di famiglia. Ciao, alla prossima!